Oggi facciamo la ricetta dei bignè. Il tempo di preparazione è 20 minuti per l'impasto e 20-25 per la cottura. Si mette l'acqua, poi il burro e il sale e poi si mette a scaldare finché non bolle. Ora all'acqua e al burro aggiungiamo la farina, si deve amalgamare con la spatola. Quando l'impasto è bello asciutto lo si mette sul banco a raffreddare. L'impasto base viene messo in planetaria e poi piano piano vengono fatte mangiare tutte le uova. Ecco, si fa fuori a sarchetto sulla teglia facendo un movimento rotatorio. Andiamo a 220 gradi con un'apera di amminanza al suolo. E ora sono pronti. E ora sono pronti.